È possibile utilizzare Scratch per realizzare anche dei progetti con la geografia. In particolare in questo corso, suddiviso in 11 brevi video lezioni, vi spiegherò in maniera dettagliata come realizzare progetti che riguardano il clima o ancora i punti cardinali o ancora sulle capitali d'Europa. Questi progetti sono adatti sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo è quello di rendere familiarità con i blocchi di codice allo scopo di creare programmi funzionali e creativi. Quindi vi parlerò di variabili, di lista, di istruzioni condizionali e di istruzioni iterative, il tutto combinato con una buona dose di innovazione e creatività.